Ben trovati a tutti, voglio accogliere l'occasione per ringraziare le banche di credito cooperativo della nostra regione, Friuli Venezia Giulia, perché hanno voluto sostenere gli studenti con varie iniziative. La prima è quella di mettere a disposizione delle borse di studio per i più meritevoli, una per dipartimento, ne abbiamo nove dal nostro Ateneo, e quindi questa è sicuramente un'azione volta a premiare l'impegno e la capacità dei nostri ragazzi. E poi anche perché hanno messo a disposizione uno strumento innovativo sul piano del prestito personale per potersi pagare le tasse e per anche fare una serie di acquisti e acquisizioni importanti per gli studi. L'accesso allo studio è un diritto fondamentale, esiste il diritto allo studio ma spesso non è sufficiente e quindi ben vengono queste iniziative e sono convinto che questa azione delle banche di credito cooperativo sia una testimonianza di quanto siano vicino al territorio e alla loro popolazione. C'è una linea di finanziamento per il pagamento delle tasse universitarie in modo da poter rateizzare questo impegno economico e poi una linea di prestito fino a 7 anni e fino a 30.000 euro per tutte le altre spese, comprese per gli studenti già laureati l'iscrizione ai master proposti dall'università. In questo modo crediamo di poter promuovere presso gli studenti l'istruzione e la conoscenza coerentemente con i nostri obiettivi statutari di crescita e miglioramento delle condizioni morali e sociali del territorio, in particolare dei nostri giovani.